Per essere venuti così numerosi, cominciamo con Rino Gattuso, Calidù Cullibali, cominciamo con le domande per Calidù, partiamo da Calvano. Calvano. Mi sentite adesso? Sì. Perfetto. Buon pomeriggio Calidù, una delle critiche che vi sono state mosse nel post partita con il Milan è la mancanza di carattere e in alcuni di voi anche di leadership. Cosa senti di rispondere a chi vi ha mosso queste critiche nella sfida con il Milan? Io non ho niente da rispondere a questa cosa, sappiamo che era una partita importante, peccato che l'abbiamo persa, però siamo consapevoli di quello che abbiamo sbagliato. La mentalità è stata quella che è mancata su tutta la partita, lo sappiamo che abbiamo sbagliato questo, però a livello di leadership penso che non è stato un problema. è vero che è successo dei episodi durante la partita che siamo stati, diciamo, tra virgolette troppo bravi, però avevamo, scusatemi, avevamo pensato soprattutto al rettangolo verde e a giocare a calcio. Per il resto volevamo fare niente polimiche, però sappiamo che cosa abbiamo sbagliato e lavoriamo su questo. e poi abbiamo sbagliato, ma siamo insieme a lei. Ho supposedly fatto un paese. S'bagliato, abbiamo fatto un paese. Sbagliato, abbiamo fatto un paese e non ci sono coinvolta. Sbagliato, abbiamo fatto un paese e ora siamo incontriati un punto. S'bagliato, abbiamo fatto un paese, ma siamo qui sbagliati un paese. Ancora per Calidù, Tina. Se non c'è Tina, Mele. Non c'è Mele? Mi sentite? Sì, eccoci. Salve, buongiorno a voi. Volevo chiedere a Calidù una cosa relativa al fatto che si gioca in undici. Si gioca in undici, si difende in undici e si attacca in undici. Che cosa non ha funzionato nella fase difensiva di tutta la squadra domenica secondo te? Penso che abbiamo concesso poco su questa partita. Loro hanno fatto gol su due gol di Ibra che sono stati goli difficili su un giocatore che è difficile da marcare. Il terzo è successo dopo che volevamo ribaltare la partita. Però penso che a livello tattico e tecnico abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo concesso poco, abbiamo avuto occasione. E' mancato solo i gol e non prenderli dietro. Però penso che si dice tante cose sulla nostra squadra, tante critiche, ma io le vedo come motivazione. Vedo questo come voglia di fare ancora meglio. Vogliamo dimostrare che non siamo quello che tutti stanno dicendo oggi, che non ci sono problemi in questo gruppo, né con lo staff, né con nessuno. Noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare e sappiamo che domani sarà una partita difficile, che anche domenica abbiamo una partita difficile. Però penso che possiamo farcela e che anche il nostro campionato può iniziare anche da domenica, che dobbiamo veramente mettere tutto a posto e si può fare in un attimo, quindi siamo tutti tranquilli. Traduzione. Grazie a tutti. è che è stato di controllo e controllato. Mi sono tecnici proposte di svo' nekoli priliche, ma ciò che ho chiesto di dire che le critiche sono solo una motivazione per noi. Mi chiamo di vedere che non abbiamo problemi in gruppo, che non abbiamo problemi con stožerano. Siamo che ciò che è stato di più difficile, ma ciò che è stato di più difficile e in settembre, ciò che ciò che è stato di più difficile. Ultima per Calidu, Petra Zuolo. Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Ciao Calidu, ciao mister. La domanda per Calidu è molto semplice. Siccome ci sono state tante chiacchiere, a mio avviso anche destabilizzanti negli ultimi giorni, ti senti di schierarti a nome di tutta la squadra con Gattuso? A questo non c'è nessun dubbio. Penso che il mister sa che siamo a cento per ton dietro di lui. Lui se ha una voglia, qualcosa, noi siamo sempre a disposizione. Quello è il più importante. Il resto, tutto quello che si dice, come l'ho detto prima, per me è motivazione. A me piace quando si parla così, perché nessuno sa quello che succede nel nostro spogliatorio. E ora lo dimostreremo sul campo perché abbiamo perso una partita contro la prima di classifica. Penso che tutti stanno facendo polemiche su di noi, però io vedo veramente che la gente ha paura di noi perché se tutte queste polemiche succedono dopo una sconfitta contro la prima di classifica significa veramente che questo Napoli può fare paura. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. e lo dimostreremo sul campo da domani e da domenica. Bene, traduzione, cari dupo andare. Grazie. Previše se priča o vama ovih dana, reko bi, esti, esti li ti, je li momčad uz trenera, uz Gattuza? Da, sto posto, mi siamo u sniega, mi siamo na raspolaganju i ja upravo volim te se tračeve koje čujem e to, kao što sam rekao, to je samo dodatna motivacija. Mi smo izgubili protiv gonciadi ko je prva na Liestivici, to je Milana e si. Možda toliko priča i o nama jer se Napoli boja. To za nas je stvarno dodatna motivacija. Domande per Rino Gattuso. Cominciamo con Nicita, Gazzetta. Buongiorno Rino, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo fare una domanda, partendo dal discorso che viviamo un momento di pandemia, di crisi in generale che non riguarda solo il calcio. Quindi partendo da questo ti volevo chiedere quanto influisce tutto questo nella testa dei giocatori in cui ci sta quello, ci stanno le famiglie ci sta anche, può essere la questione degli stipendi non deve essere per forza primaria quanto possono influire queste cose esterne e quanto il tuo lavoro, per come impostato non rischia di diventare nella testa di un giovane di 20-30 anni una sorta di overdose. Nella mia squadra devono pensare a lavorare perché penso che abbiamo una fortuna sia io, il mio staff, i miei giocatori chi lavora nel mondo del calcio perché firmiamo dei contratti importanti sono cifre importanti e siamo tutelati ed è per questo che in questo momento non bisogna pensarci perché se si pensa a questo andiamo alla ricerca degli alibi e chi mi conosce sa che chi mi sta vicino, chi lavora con me va alla ricerca degli alibi non può stare con me. io vivo questo lavoro a 300 all'ora tutti i giorni ho grande passione, lo faccio con grandissima voglia e voglio persone che ci mettono voglia ci mettono passione io nella mia squadra vedo tutto questo è troppo facile andare alla ricerca a parlare di stipendi non ho nessuna paura perché vedo una squadra che mi segue una squadra che secondo me e lo dicono anche i numeri sta giocando un grandissimo calcio sicuramente dobbiamo avere più malizia ci vuole più cattiveria agonistica ma la squadra io sono contento di quello che sta facendo dopo se qualcuno qua a Napoli pensava che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai non è il mio problema io so che la squadra quello che mi sta dando che tipo di calcio sta proponendo sicuramente possiamo fare meglio lo sappiamo che possiamo fare meglio però la strada che abbiamo cominciato mi piace molto traducione Rino živimo u dobi pandemije krize koliko utjeche pandemija na vaš rad i na na igrače oni valda misle na svoje obiteli čak i na i na plaće oni moraju samo misliti da rade i da igraju nogumet ja stožer igrači dobiamo velike sfote imamo ugovore tako da ja mislim da ne postoji problem mi smo uovo svi su zastićeni i moramo samo misliti da radimo svoj posao i to je to jer inače to bi bilo samo tražene aliba tražene ispreka i ja volim ovaj posao i ne želim uz mene ljudi koji traže objašnjene aliba jer smo izgubili utakmicu ja se ne bojim ničega momćad je uz mene igra mislim i to su potvrdili drugi odlični nogumet tako da sam ja sretan i ako ste misli da ćemo skupiti 130 bodova u tri utakmice valda ste se varali izgubili smo jednu takmice ja sam potpuro osato taurmina del mattino c'e azzi di repubblica eccomi ecco 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 taurmina taurmina scusate a tutti buon pomeriggio Gattuso ci racconta questi giorni passati dopo la gara con il Milan queste giornate con la squadra e soprattutto se dopo le parole che ha usato sia in pubblico sia con i giocatori ha visto già una reazione da parte dei suoi calciatori ovvero se hanno compreso bene l'invitario il suo messaggio innanzitutto almeno dopo qualche tuo collega non mi fa la domanda quello che avete scritto e chi l'ha scritto sicuramente non è tutto vero io non ho litigato con la squadra ho parlato solo io alla squadra ho espresso le mie parole la squadra non c'è stato nessun litigio e nulla io non devo vedere nulla io dovevo devo vedere vedo sempre l'impegno durante la settimana vedo un grandissimo senso di appartenenza è normale che in questo momento come ho detto già prima tutto questo non basta voglio vedere un qualcosa in più perché non vorrei che il giocare bene tante volte ci fa sedere noi non possiamo giocare solo di fioretto ci sono dei momenti quello che ho detto alla squadra che bisogna leggere le partite la lettura delle partite è fondamentale se certe volte bisogna stare là e soffrire questa squadra l'ha dimostrato tantissime volte da quando sono qua pur non giocando un grandissimo calcio ma stavamo là davamo la sensazione di non prendere mai i gol e in questo momento dobbiamo ricominciare ad annusare il pericolo perché penso che il fatto di voler giocare bene sempre per 90 minuti non si può e c'è il momento che devi mettere nel metto e giocare un calcio diverso questo è quello che voglio dei miei giocatori dopo penso che c'è qualcuno che non forse non mi esprimo benissimo in italiano però dopo quando sono andato a Sky ho detto che la responsabilità era la mia perché dopo un anno se ancora non riesco a vedere le cose che chiede alla squadra vuol dire che la responsabilità è la mia e non c'è stata nessun non ho massacrato nessun giocatore perché parecchi di voi avete detto che ho dato la responsabilità del giocatore la responsabilità è la mia perché vorrei la squadra e loro sanno come mi piace come intendo il calcio certe volte si può giocare anche male ma si può metterci più agonismo basta Rino kako ste provali ovih dana nakon kontakmice protiv Milana nakon vaše izjave jeste li već vidjeli reakciju nogometaša ma gledajte ono što ste vi napisali vi novinari nije istina ja nisam se s nekim svađao ja sam samo izrazio svoje mišljenje i to je to u stvari oni su dobro radili svi ovih mjizeci ja hoću nešto više da tražim od njih da bolje čitaju takmice da budu pametnije jer ne mogu ne mogu oni igrati 90 minuta na 100% snaga ali to je to vi ste ovo baš krivo objasnili i predstavili ja kao što sam rekao nakon utakmice ja sam odgovoran za ovu momčad jer ako nakon godinu dana ne mogu dobiti ono što sam tražio od igrača znači da sam ja odgovoran ja nisam napadao igrače nisam napadao nogometače samo sam rekao da sam ja odgovoran azi di repubblica c'e si sono mi sentite si si un poveriggio a tutti Rino volevo partire da un dato statistico nelle ultime sette partite il Napoli è andato in svantaggio cinque volte che sono tante ma c'è un problema di approccio mentale alle partite forse si lo sapevo questo dato secondo me dobbiamo tante partite abbiamo sbagliato tantissimi primi tempi e questo è un dato di fatto perché anche domenica secondo me è stata fatta una buonissima partita ma i primi 15 minuti non pervenuti abbiamo sbagliato tanto in costruzione ogni singolo giocatore ha sbagliato tanto e penso che abbiamo qualcosa che ci deve far riflettere penso sia io che il mio staff è un dato che già ne stiamo parlando bisogna migliorare bisogna migliorarlo perché dopo non è facile dopo la squadra è brava perché ha qualità perché anche il primo tempo con Rieca tanti il primo tempo con Benevento se non è una squadra forte difficilmente puoi rientrare in partita ma tecnicamente la mia squadra è tanta roba è forse quello che dicevo prima ed è per questo che dobbiamo alzare l'asticella a livello mentale dobbiamo entrare subito in partita non regalare perché a noi nessuno ci regala niente e queste sono tutte le cose che io dico alla squadra perché ci basiamo molto sui dati però dopo bisogna andare a leggere anche gli altri dati il volume perché voi giudicate le partite e basta dopo ci sono tante altre cose che questa squadra lo fa egregiamente fa tantissime cose giuste però secondo me per diventare una squadra forte e distruggere gli avversari ci manca questo passaggio questo dato che hai detto te traduzione i nostri mentali si deve porre rimedio e come si può porre rimedio ma non è solo la questione di tirare meglio è come e le volte che arrivi perché ieri abbiamo fatto vedere sette clip alla squadra ci sono state due azioni che eravamo cinque contro uno abbiamo sbagliato l'appoggio due clip quattro noi e due di loro abbiamo sbagliato l'appoggio e la qualità di gioco che è molto alta e stiamo sbagliando stiamo sbagliando tanto ma di giocatori Driss difficilmente quest'anno ha sbagliato quattro cinque occasioni nella sua posizione gli altri anni era un cecchino possono possono succedere momenti così e ci stiamo lavorando perché stiamo stiamo a livello balistico stiamo facendo qualcosa in più è normale che quando si gioca ogni tre giorni non puoi sempre far calciare i calciatori o farli attaccare gli ultimi venti metri bisogna stare attenti però lo sappiamo che la nostra ma in tutti in tutti i dati siamo siamo nelle prime posizioni ed è per questo che in questo momento non mi preoccupa la qualità di gioco e come sta giocando la squadra mi preoccupa che secondo me dobbiamo quando parlo di cattiveria non solo quando non ci abbiamo la parla ma anche quando ce l'abbiamo sapere leggere bene le letture stiamo sbagliando tanto su questo ed è per questo che dico che ognuno di noi in questo momento deve dare un qualcosa in più perché le prestazioni ci sono ma ci dobbiamo mettere in qualcosa in più Traduzione io non sono abbrinuto per questo ma sono abbrinuto per la mentalità e per la città di igra e ovunque moriamo dodati in più allora le ultime due Sucic di Novi List e poi in prota di Canale 21 c'è Sucic? Gospodine Sucic e Materiaci non c'è in prota di Canale 21 Sì Salve Gattuso le chiedo lei ha parlato di mancanza di mentalità ed è ritornato sull'argomento quindi in primo luogo quando manca la mentalità subito dopo ci si guarda negli occhi ci si confronta anche a Musoduro una cosa normale abbastanza all'interno dello spogliatoio e questa è la strada che continuerà a percorrere e poi una curiosità sceglierebbe ancora Politano così vicino a Mertens? tutta la vita tutta la vita perché secondo me è stato uno dei migliori in campo ha avuto 4-5 occasioni non sapevano mai come prenderlo la rifarei ma non è un ruolo che mi sono inventato io Cassa Suolo l'ha fatto più di una volta Musoduro non voi pensate che io vado tutti i giorni a Musoduro non è così ci sono i momenti che bisogna andare a Musoduro ci sono i momenti che bisogna andare a Careste ci sono i momenti che bisogna dire bravo momenti di mandare a fanculo chi se lo merita io sono molto attento sulla gestione io penso che in questo momento la parola mentalità è ampia io ho detto soltanto che questa squadra qua deve alzare l'asticella deve non pensare a quanto è brava ma certe volte riuscire a giocare in un modo diverso quello di stare là di annusare il pericolo di aiutarsi e non stare sempre a pensare quello che fa il compagno questo penso che se riusciamo a migliorare questo siamo una squadra forte lo sappiamo i miei giocatori lo sanno io sono orgoglioso di allenare questa squadra perché è una squadra forte bisogna solo aggiustare questo modo di stare in campo perché il resto va tutto bene dopo e lo ridico tutto quello che si dice tutto quello che che viene fuori soltanto qualcosa c'è di vero ma altre cose non non stanno né in cielo né in terra traduzione poi a concludere Tele Luna ok avete spomeno le opere mentalità che sono stati dei tuoi problemi ma vorrei aspettare opper biste stavili Politano i Mertens toliko blizu jedan drugom i još jedno pitanje kad je problema mentalitetu naravno mora se pričati s'igraćima ponekad budu i grube riechi za prvo pitanje ma da ja bi Mertens i Politano zajedno sto postavio toliko blizu on je imao 4-5 šansa i to je već radio sa suolu tako da da opet bi napravili isti isti sastav gledajte što se mentalitete tiče nisu bile grube riječi vi se ovo napisali postoje momenti ima momenti za grube riječi za nješnjo za poslati nekoga u rodno mjesto ali nije to problem nismo imali nikakve probleme samo smo mirno razgovarili i pričali o takmici znamo praviti svoje momčadi tako da ja sam želam da oni rade nešto više i jako sam ponosan momčadi i samo trebamo neke stvari poboljšati a sve ono što vi pišete neke stvari su istinite neke su potpuno lažne le luna non c'è bene grazie buona giornata ok mi smo gotovi dove geniamo